È un edificio che si trova di fronte alla stazione in via l'Europa Unita. È un edificio che purtroppo è stato oggetto di occupazioni abusive, di spaccio, di consumo di sostanze stupefacenti. Questa mattina siamo entrati superando soprattutto gli ostacoli della burocrazia. Quando c'è di mezzo una procedura fallimentare la burocrazia rallenta molto i tempi. Devo fare i complimenti alla Polizia Locale, in particolare all'unità della Polizia Ambientale, che è riuscita a superare questi ostacoli. Siamo quindi entrati e ci siamo resi conto che questo edificio purtroppo nel corso di ormai molti anni è stato oggetto di una situazione di degrado inaccettabile, proprio davanti alla stazione, quindi in un luogo in cui la gente arriva all'interno della nostra città. Che cosa avete trovato? Abbiamo trovato siringhe, abbiamo trovato evidenti segni di consumo e di spazio di sostanze stupefacenti. È una situazione particolarmente preoccupante. Ci si rende conto che nella nostra città il fenomeno dello spazio di stupefacenti è un fenomeno assolutamente preoccupante, come in tutte le altre città del nostro paese. La cosa importante è che oggi una ditta, incaricata dalla procedura fallimentare, sta procedendo alla chiusura di questo luogo, che quindi non potrà più essere oggetto di fenomeni di spazio di stupefacenti. L'edificio è paradossalmente molto bello. Sotto ci sono due piani di parcheggi che potrebbero essere utilizzati, sarebbero fondamentali per la stazione della nostra città. Mi auguro che la procedura fallimentare si concluda con la rilevazione da parte di un privato di questo edificio, che può essere valorizzato. Non è assolutamente lo stato grezzo, potrebbe essere veramente con un investimento non particolarmente importante, utilizzato e valorizzato. Mi auguro che la soluzione venga trovata al prima possibile. Per quanto riguarda poi l'attività che procede anche in altre zone della città, su che cosa vi concentrerete ora? In particolare sul tema della sicurezza stiamo implementando notevolmente il sistema della videosorveglianza. Da molti punti di vista, quindi sia con la sostituzione delle telecamere di vecchia generazione, con telecamere invece innovative. Qui proprio in zona della stazione, il prossimo anno, ci sarà una gara per la realizzazione di un impianto a riconoscimento facciale. Proprio in questi giorni l'amministrazione comunale sta acquistando delle fotocamere intelligenti sul tema dell'abbandono dei rifiuti. Insomma, sono tante le attività che abbiamo da fare e che stiamo facendo. Sono convinto però che passo dopo passo, nel corso del tempo, i risultati come stanno arrivando, così ne arriveranno ancora di più importanti.